ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi ragazzi andremo avanti con la mia collezione di blu ray è tantissimo tempo che non faccio un video di questo genere ma non dico ultimamente non ho visto film perché ne ho viste veramente tanti ma su netflix ne sono arrivati diversi che mi interessava vedere e quindi sono andato avanti con la visione di questi film su netflix e ho lasciato un po perdere i miei blu ray comunque ne ho ammucchiati un po più di 20 e quindi ho deciso di farveli vedere allora inizierei subito con il primo film che in dvd come altri due quindi saranno tre dvd e tutti il resto sarà saranno titoli in blu ray iniziamo col primo i bassi fondi di akira kurosawa bellissimo film che narra le vicende di 12 diciamo personaggi che vivono in questa casa sotto una discarica casa ovviamente di un padrone che li accoglie ovviamente sotto pagamento e in questa casa troviamo questa prostituta dal cuore d'oro troviamo questo attore alcolizzato questo diciamo nobile decaduto un ladro un artisano insomma che sognano tutti quanti assieme di vivere una vita insomma una vita diversa diciamo poi all'improvviso durante il film arriva un personaggio che darà un po di speranza a ad ognuno di loro c'è anche una storia d'amore impossibile insomma a mio avviso un gran bel film da recuperare assolutamente una gran bella storia adesso vi mostro anche l'interno si veda si vede abbastanza sfocato mi sembra comunque gran bel film ragazzi recuperato andiamo avanti film con john wayne eroi senza patria film che è ambientato durante il periodo della legione straniera è un film del 1933 che mette in risalto la bravura di questo grandissimo attore sicuramente non uno dei suoi film più belli ma è un film godibile altro film con john wayne vi sto parlando dell'ultima conquista questo invece è un bel film anche qui c'è una storia d'amore tra john wayne e questa ragazza e non faccio spoiler come al solito quindi mi fermo qua lui è un fuorilegge e insomma e questa ragazza lo farà tornare sulla retta via apriamo anche qua come sapete sto cercando di recuperare tutti i film di john wayne e di akira kurosawa piano piano ne sto mettendo assieme tanti e tanti anche mi mancano piano piano ce la faremo andiamo avanti il cacciatore di gigante titolo in blu ray genere fantastico allora visivamente questo film nulla da dire nulla da dire anche la storia è molto carina filo ovviamente leggero comunque carino visivamente è proprio spaziale andiamo avanti il patto dei lupi invece questo film a me personalmente non è piaciuto tanto mi è piaciuto tanto anche se nel castro abbiamo visto in cassella c'è monica bellucci jeremy rainer rainier scusate film dal quale mi aspettavo molto di più mi aspettavo molto di più poi quando ho visto la bestia sono rimasto un po deluso tra virgolette pensavo che fosse un altro film invece può darsi che a qualcuno piaccia io questo non lo discuto il mio giudizio è soggettivo quindi a me non è piaciuto ad altri invece potrà piacere sicuramente andiamo avanti con un altro film sto parlando di ripd allora cast grande cast con jack bridge e ryan reynolds anche questo qui è un filmino un po sulla scia di man in black film godibile sicuramente non all'altezza di man in black sicuro comunque un bel film film che mi è piaciuto veramente tanto un android ovvero ciappi film film molto molto bello visivamente niente da dire ma la storia ragazzi è veramente super poi troviamo i jackman sigone weaver film che veramente vi terrà attaccati allo schermo per tutta la durata a me è piaciuto veramente tanto altro genere dwin johnson hercules il guerriero sicuramente non uno dei più belli di dwin johnson anche qui visivamente niente da dire effetti speciali bellissimi però non lo so gli manca gli manca quel qualcosina in più film ad animazione ci cogne in in missione questo titolo è in 3d io l'ho guardato in 3d 3d molto godibile storia molto bella molto particolare fa fa veramente ridere e poi l'animazione è veramente il top quindi vi consiglio di recuperarlo anche se non in 3d se non possedete una tv 3d o il lettore blu ray 3d che ormai come sappiamo tutti sono andati un po' in dimenticanza anzi le televisioni 3d non vengono più prodotte quindi chi si ritrova un televisore 3d e lo vuole recuperare io glielo consiglio altro film con ben affleck argo film che mi è piaciuto anche questo film vi verrà attaccati alla televisione non un capolavoro secondo me come tanti l'hanno definito a me si è piaciuto però non lo considero un di certo un capolavoro un bel film un bel film sicuramente e poi ben affleck insomma allora invertiamoli allora ho visionato ghostbusters il reboot allora io devo dire la verità questo film a me ragazzi non è piaciuto per niente non è piaciuto per niente non non lo so è ovvio che si sono voluti distaccare un po' da quello che era il ghostbuster originale e però a me non lo so anche la scelta del cast a me non è piaciuta per niente film che che ho comprato perché ero interessato a visionarlo ma devo dire che se devo dire che è un film che guarderò e riguarderò e riguarderò decine di volte no 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 abbastanza deluso diciamo proseguiamo con kate mccall allora questo è veramente un bel film e troviamo anche nick nolt kate beckinsley questo è un gran bel film ragazzi questo è un gran bel film la storia poi è una storia abbastanza originale mi è piaciuto andiamo avanti adesso ci sono due film che a me sono piaciuti veramente tanto vi sto parlando di kingsman e mi sono piaciuti molto ragazzi sono film che non si prendono proprio sul serio tanta azione veramente una storia che mi è piaciuta mi è piaciuta parecchio poi gli attori troviamo samuel jackson colifert michael kane e quindi ragazzi comunque gran bel film gran bel film strezza un po' l'occhiolino a 007 ovviamente non è all'altezza ma non vuole neanche esserlo perché questi sono film che non si prendono veramente sul serio comunque gran bel film del quale è uscito anche il secondo Kingsman il cerchio d'oro anche questo secondo me non all'altezza del primo non all'altezza del primo sicuramente ma anche questo è un gran bel film so che adesso a dicembre se non erro uscirà anche il terzo film e speriamo di riuscire andarlo a vedere al cinema andiamo un po' ritroso nel tempo adesso andiamo a vedere e è giustizia per tutti con al pacino una grandissima interpretazione di al pacino interpretazione come solo lui riesce a fare veramente anche qui al pacino è un avvocato è un buono insomma non vado oltre comunque è un gran bel film e vi consiglio vivamente di recuperarlo film con Dov Lungram The Trigger film ispirato al videogioco io lo considero è un b-movie anche questo chi conosce il videogioco sa che insomma ha a che fare con gli zombie film che nonostante tutto mi è piaciuto abbastanza sa comunque intrattenere ovviamente se avete visto ultimamente The Walking Dead e guardate gli zombie di The Walking Dead e guardate gli zombie di The Trigger c'è una bella differenza questo si vede proprio che è un b-movie io il gioco non l'ho mai giocato perchè non sono tanto un amante di videogames e quindi mi è capitato di giocare poco veramente poco quindi io il videogioco non lo conosco non so se sia attinente al gioco o meno comunque il film mi è piaciuto abbastanza allora film con Wind Diesel The Last Witch Hunter l'ultimo cacciatore di streghe questo invece è un film che mi è piaciuto veramente tanto Wind Diesel molto nella parte mi è piaciuto parecchio ormai siamo abituati a vederlo quasi esclusivamente in Festa in Furious e quindi quando lo vediamo interpretare un ruolo che non sia quello di Toretto insomma c'è magari qualcuno che storce il naso a me invece personalmente in questo film è piaciuto veramente tanto adesso un film che ho visto proprio stamattina è un film con Bruce Willis sto parlando di Vice anche questo film stringe un po' l'occhio un po' tanto l'occhio ai robot non mi veniva il nome ho guardato ho guardato l'edizione anche qui si parla di robot non proprio di robot ma di come dire di persone di persone di cyborg via cyborg realizzati con materiali sintetici quindi ci sono questi cyborg fatti proprio a somiglianza di una persona film che anche questo mi è piaciuto un bel filmino dura anche poi veramente poco dura un'ora e mezza e quindi vi mettete lì e ve lo guardate poi vi volevo mostrare un cofanetto con tre classici importantissimi per la storia del cinema vi sto parlando del cofanetto Hollywood Romance con questi tre filmoni ragazzi Casablanca, Il Dottor Zivalvo e Via Colvento tre film uno più bello dell'altro grandissimo il Dottor Zivalvo ovvero Omar Sharif stupendo veramente sono rimasto veramente a bocca aperta poi con il vederlo in blu-ray che è insomma tutt'altra cosa non so se esistono se esista anche il 4k ma non penso non mi sono andato a informare magari se qualcuno di voi lo sa se uscite il 4k se me lo può scrivere nei commenti per favore intanto mi andrò a documentare comunque bellissimo film in questa edizione a doppio disco perfetto adesso parliamo di Casablanca Casablanca ragazzi anche quanta roba è sto film quanta roba è sto film ragazzi film che non hanno certo bisogno di presentazioni visti e stravisti stupendo veramente film rimasti nella storia del cinema non hanno certamente bisogno di presentazioni non dico niente perché si presentano veramente da soli anche via col vento veramente un filmone ragazzi dura 4 ore ho sentito dire che il film è un attore pesante io non l'ho trovato per niente pesante come non l'ho trovato pesante il dottor Zivago sono veramente pellicole che lasciano il segno veramente stupende stupende ragazzi perfetto ragazzi io con questo ho concluso questo video spero adesso di mettermi a guardare altri film in blu-ray in modo da poter fare un video prima perché veramente sono passati sono passati mesi ma come ho detto mi sono messo anche attorno alle piattaforme e quindi un po' sono tornato al cinema a vedere qualche film e un po' le piattaforme che buttano fuori sempre film nuovi quindi la sera magari quando sei lì sei lì sul divano magari non hai voglia di alzarti non ho voglia di venire di sopra a prendermi un film e quindi mi metto a guardare su qualche film su Netflix o su Prime Video o su Disney Plus insomma le ho tutte e quindi pensate voi che scelta c'è comunque speriamo di fare un video quanto prima e niente ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like che per me è molto importante e cosa più importante per sostenere il canale iscrivetevi ragazzi ciao a tutti 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 ciao a tutti